bene nella bellissima soleggiata di spezia dovete sapere che in bare palermo minchia chiove pure dopo 25 anni che sto qui praticamente si accetta sempre che chiove d'estate ogni tanto piove però prima ancora era peggio oggi argomento del giorno dunque di cosa parliamo meno male che si sta avvicinando il weekend calcistico ragazzi visto che si sta avvicinando il weekend calcistico domani faremo i pronostici per ora dopo tre puntate zero vittorie ne ho sbagliato altra volta una ma purtroppo è andata così quindi cosa propone in bare palermo oggi in questi video di far rire trattenimento però dobbiamo anche quando io dico sono intenti di caccio di mossa sul campo in bare palermo e quindi oggi parleremo di tattica la tattica del caccio è importante secondo voi la tattica del caccio è importante ti dico solo due allenatori uno ma se veniva a leghi a leghi che tattica faceva non aveva tattica il suo scopo era quello della squadra di mettere in difesa quando sbagliava l'avversario di ripartire ma no con la grande squadra con tutte le squadre però intanto facendo così ha vinto campionati ha fatto due finali super coppe la coppia c'è un cazzo che vuoi parlare di allegri parlare di allegri era così chi si muove adesso qua in macchina mi sto meno di 5 minuti di andare a lavorare facciamo 10 10 minuti di lavorare quindi è allegri la sua tattica che era di farla stare alla squadra tutta in difesa di fare ripartenze però quella era una tattica a modo suo intanto fruttificava diciamo vittoria 1 a 0 via difesa 1 a 0 e subiva meno quella era una tattica ma la tattica in cui noi vogliamo la tattica di calcio è semplicemente anzi anzi non semplicemente spurotosatamente spurotosatamente indiamo meno questa parola ogni poi sempre difficile allora io dico praticamente la tattica dico di motta 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 che fa la tattica sua qual è quella che c'ha un solo praticamente purtroppo centravanti ci sono le ale che fanno tutte sia la parte offensiva che difensiva metto una palla e mezzo e centravanti in questione abbiamo il top player che è un po di gola dice che ci saranno un po di malanni hanno detto settembre ottobre in giro influenze cose vlaulic vlaulic deve fare direttamente quello che deve segnare deve segnare il buon vlaulic e quindi diciamo la tattica che usa motta è questa qua ragazzi di di far le ali le ali devono fare praticamente tutto di mettere più palloni in mezzo più palloni che non posso di scattare l'avversario di blare quello che sia cross non cross e quindi vlace segnare questa è la tattica di 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 motta però quando parliamo di tattica in generale la tattica di gioco intanto il gioco del calcio è semplice come dice la rus pacchino la di allegra ma è semplice come c'è senso che tu devi fare un gol più dell'avversario quindi una zero due deve fare sempre un gol questo alla fine il gioco del calcio puoi fare tanti motori che vuoi puoi fare tante tattiche che vuoi tanti motori che vuoi quattro tre tre quattro uno due quattro uno quattro cinque 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 stavo scherzando di rino bambi quindi puoi fare tutti i modi che vuoi alla fine si vince a un gol di scala ragazzi devi fare un gol più dell'avversario alla fine hanno spiegato tutti i giovani che spiegano e questo alla fine il gioco del calcio è semplice un gol più dell'avversario e vinci come vinci vinci giochi bene giochi male giochi a metà però intanto intanto certo ognuno di noi vorrebbe vincere 5 6 a 0 giocare un gran calcio calcio champagne calcio epilettico calcio piramidale calcio scintillante calcio calcio universale calcio tattica la tattica è questa ragazzi quindi cosa è la tattica del calcio la tattica del calcio è semplicemente che che ora parliamo definizione seria perché questa è la tattica del calcio che praticamente due o più giocatori si devono coordinare e coordinare affinché praticamente superi gli avversari affinché fai gol questa è la tattica alla fine la tattica del calcio no poi c'è le strategie quello ne parliamo un secondo capitolo quindi la tattica del calcio è uno diciamo è molto predeterminato in tanti fattori quindi pare parevo che ti dice ma tu sai cosa sei tu qua ma sei sempre stato sfottuto così no pare mio che sfutta sapete perché poi questo è anche un video noioso attenzione che tattica vuoi usare tu certo di solito in Europa si usa il 433 come tattica nel senso il 433 che non solo i cento avanti deve segnare adesso questo calcio moderno segnano anche le ali ma segna anche soprattutto i centrocambisti soprattutto se tu c'hai tre buoni centrocambisti in questo caso abbiamo Douglas Lewis, Turam e Cupo Maggi se questi tre più Vla ci segna abbiamo buone possibilità di stare alle diciamo tra il primato e secondo posto perché io l'Iwenz quest'anno onestamente la colloco tra primo e secondo posto prima c'è sempre l'Inter però già per me se arriviamo terzi per me sarebbe anche un fallimento quindi quindi lo scopo della tattica del gioco è quello di far segnare soprattutto i cento avanti ma anche è vero le ali devono fare le ali devono fare devono segnare oggi in questo calcio moderno più dei centrocambisti più degli attaccanti abbiamo un esempio c'è davanti che in Bappé andiamo nella scuola più forte però alla fine cosa è quello che è più forte? Vinicius Vinicius sulla fascia in questi anni ha segnato più dei centrocambisti di tutti i Real Madrid a cui c'era il Real Madrid tanto è parlato parliamo dell'Inter la scorsa che fu capocannoniere Lautaro, Lautaro e cento avanti? No, Lautaro è alla fine sulla seconda punta cioè ha visto il segnale più un Turam per esempio oppure quando c'era un Lucazzo che è di Lautaro Martinez Lautaro Martinez segna, vedi com'è questo calcio moderno? Adesso le ali, se ora andiamo gli ultimi europei c'è stato quello Williams, Yamal che hanno segnato più di Morate che cento avanti quindi le ali ad oggi il calcio moderno segnano più dei centri avanti vedi che ti dico guardalo bene il calcio quindi oggi ti ho dato lezioni di tattica proprio del calcio, la tattica comunque tu quale tattica preferisci? ci sono tante tattiche ragazzi a me sono fatto troppo anche cing difesa sono a difendere, a me sta cosa mi scoccia le squadre che si difendono veramente la tattica del gioco per me è questa intanto che propone un bel calcio ma tu devi attaccare devi attaccare, devi attaccare poi ripeto o vinci o perdi c'è sempre l'avversario ma intanto te la giochi questa è la miglior tattica per me ti saluto e ti auguro qua una buona giornata sempre della soleggiata di Spezza ciao